sta ormai diventando un rito dopo che faccio un'ora e mezza nel bosco giustamente dopo che salgo, salgo, salgo ritorno indietro stavo quasi inciampando e si trova solo che io ne vorrei trovare così almeno una decina solo che sono in via di rientro però intanto lo cogliamo eccolo un bel porcino moro vabbè, gambo è bellino bello duro, proprio di nascita ma speriamo che a scendere se ne trovi qualcun altro soccorriamo